Il secondo trucchetto è il Chuck, io lo chiamo Chuck, adesso non so in effetti il suo proprio nome, però ecco questo suono percussivo che è una cosa molto bella da avere sulla chitarra perché? Perché aggiunge un po' più ritmo a quello che stiamo suonando e quindi come si ottiene? Allora praticamente sto andando a colpire leggermente le corde qui sulla rosa sul buchino e le vado a colpire in questo modo con le unghie in effetti con questa parte delle dita, ok? Di solito lo andiamo a piazzare sul secondo e il quarto battito per dare un accento più forte e diciamo emulare un pochettino il suono del rullante di una batteria, questa qui è l'idea. Quindi sarebbe 1 2 e 3 e 4, vedi che mi civa l'automatico ormai, ok? Quindi sul 2 e sul 4, non è che ci stavo pensando in effetti. Quindi 1 2 e 3 e 4, 1 2 e 3 e 4, ok? Questo qui è il Chuck e sicuramente ti sarà molto utile per creare dei ritmi un pochettino più complessi e sorprendere i tuoi amici con questi suoni percussivi che fai sulla chitarra. Grazie.